musica 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 anche in questo caso non mancheranno sicuramente intensità e spettacolo abbiamo visto quello che hanno già dimostrato questi due campioni delle due rispettive semifinali quindi non possiamo fare altro che aspettarci anche in questa finalissima tanto spettacolo e tanta intensità. Ultime indicazioni ai rispettivi ampoli ricordo l'angolo blu per l'olandese Tariq Eldrisi, angolo rosso per Mohamed Ojeid ultime indicazioni dai rispettivi coach poi tra qualche istante sarà ufficialmente fight per la prima differenza da tre minuti in questa finalissima tutto è pronto domenico le tante santis ricopriamo ambito internazionale giudice internazionale nonché giudice per questa finalissima tutto è pronto un pochissimo e si partirebbe prima vai vai attento solo a quel front line dai 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 Grazie a tutti. 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 6, 7, 8, gira, gira. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.